Devo dire notta taccia, veramente notta taccia, mi trovo con una camicia distrutta, con un bel segnaccio di una manata, non so se si vede, tre telecamere rotte, dico tre telecamere rotte, questo è il risultato di un assalto a una persona che non sto io a giudicare, giudicherete voi quando vedrete il servizio di striscia. Ciao ragazzi.